Proseguono le indagini dei carabinieri di città di Castello in relazione al rinvenimento del corpo di una donna di origine tedesca di 70 anni deceduta all'interno della propria abitazione a seguito di una richiesta di intervento da parte di un'amica coetanea che non ne aveva più notizie da giorni. I carabinieri sono intervenuti nella frazione di Pistrino nel comune di Citerna e dopo aver avuto accesso all'interno dell'abitazione con l'ausilio dei vigi del fuoco di città di Castello hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna che presentava tumefazione al volto, segno di una possibile colluttazione. Da una prima ispezione sommaria cadaverica effettuata in loco dal medico legale intervenuto con il pubblico ministero e sulla base dei primi elementi raccolti dalla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale carabinieri di Perugia non si può escludere neanche l'ipotesi dell'omicidio. La salma così come disposto dalla competente autorità giudiziaria è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale di Perugia per una completa autopsia che possa così aiutare a fare completamente luce su quanto accaduto.